Grazie all'arrivo, alla nuova zona sicura! MEDICO! Avete del gas in arrivo! Meno di 10 nemici rimasti! È in cui! È in cui! Gas in arrivo! Alla nuova zona sicura! Completate la missione! Eliminateli! La donna ha vinto il nemico, torneremo a completare l'opera. La donna ha vinto il nemico.